Ed ora il momento più atteso, la consegna del premio a Rione di Citore, l'ambito Paglio. E in questa notte il Rio de Samadeo vince la 45esima edizione! Grazie a tutti! Salutiamo tutti questi ragazzi, vi facciamo ancora un grande applauso! Un applauso a tutti i loro, perché sono stati bravissimi, come tutti gli anni ci danno. Grazie, gioia e soddisfazione per noi, è veramente molto bella la scusa della loro competizione. E arrivederci al prossimo! Ciao! 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 Grazie.